Il trend dell'aeroporto di Alghero è positivo. Questa settimana è partito il collegamento per Madrid, domani al V e il volo per Napoli con Volotea. È iniziato questa mattina il lungo weekend di monumenti aperti, particolarmente interessante la mostra a rigiro allestita all'ercato civico di via Sassari per celebrare la partenza del Giro d'Italia dello scorso anno. Ampia pagina sportiva con tutti gli appuntamenti del fine settimana, spicca la partita di domani tra Alghero Rugby e Biella, decisiva per la promozione in Serie A. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV. Apriamo parlando di aeroporto perché in questi giorni entra nel vivo la Summer 2018. Ma in settimana il direttore generale di Sogeal Mario Peralda ha parlato dello scalo in commissione trasporti a Cagliari. Corsa settimana è stato il turno di Berlino con EasyJet e Madrid con Volotea, domani invece il V e il collegamento con Napoli. Sarà sempre Volotea Gestilla, avrà due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato. Insomma la Summer 2018 entra nel vivo con le altre rotte che saranno attivate tra la fine di questo mese e l'inizio del prossimo. Alghero arriverà a quota 52, come ha ricordato Mario Peralda in commissione trasporti in regione. Abbiamo un piano per sviluppare ancora i volumi di traffico, stiamo realizzando una nuova area di parcheggi da mille posti e siamo intervenuti anche sulla struttura dei costi, sia esternalizzando le attività di security senza perdere un posto di lavoro che sottoscrivendo un buon accordo con i sindacati per gestire circa 45 esuberi, nel senso che la cassa integrazione di mesi invernali viene sostanzialmente assorbita nei mesi estivi, ha detto tra le altre cose il direttore generale di Sogeal a Cagliari. Per Peralda il giudizio sulla scelta della regione di privatizzare lo scalo è molto positivo così come il fatto che la gestione sia andata a una società leader nel trasporto aereo che controlla circa il 38% del traffico nazionale. Quanto ai dati del traffico? Il direttore generale ha affermato che occorre leggerli in maniera corretta, evitandoci il riferimento al 2015 che rappresenta un picco straordinario non ripetibile, anche perché dovuto in larga parte alla presenza massiccia di un vettore low cost come Ryanair oggi non più sostenibile in base alle norme comunitarie. L'andamento del 2017, ha detto, segnala non solo la conferma di un trend positivo con il recupero graduale ma consistente dei flussi di passeggeri rispetto all'anno precedente ma indica soprattutto che l'aeroporto ha ulteriori margini di miglioramento da intercettare rafforzando la buona gestione della società attraverso l'incremento dei volumi di traffico e proseguendo nella razionalizzazione dei costi, nel miglioramento della qualità dei servizi e nella collaborazione con il territorio. Quindi un passaggio sul bando a sostegno della destra giornalizzazione per Alda ha messo in luce il valore strategico, sottolineando però la necessità di rivedere la tempistica perché un intervento efficiente nel trasporto aereo richiede almeno un anno di preparazione. E dai trasporti alla sanità perché in occasione dei festeggiamenti per la festa della mamma nell'ospedale civile di Alghero si è svolto ieri il primo open day del reparto ostetricia per creare un momento di incontro tra gli operatori e le donne in dolce attese per discutere insieme degli aspetti sociosanitari legati alla maternità e all'allattamento al seno. Il personale medico e ostetrico è rimasto a disposizione per dei colloqui privati nei quali si sono discusse esigenze aspettative della coppia per illustrare il ventaglio dei servizi sanitari offerti nel reparto in un'ottica di umanizzazione della nascita in cui i genitori e i bambini sono al centro delle attenzioni del personale sanitario. Alla presenza della direttrice, la dottoressa Speranza Piredda, delle associazioni che operano con straordinaria costanza sul territorio, mamme e papà, i responsabili dell'ufficio politiche familiari del comune di Alghero e dello staff di medici e infermieri del reparto dell'ATS di Sassari, il sindaco di Alghero ha voluto ringraziare tutti per l'encomiabile lavoro che quotidianamente viene portato avanti in città. È stata l'occasione per il sindaco per parlare delle misure avviate dall'amministrazione a favore delle famiglie e gli interventi in sostegno alla natalità. L'Open Day hanno fatto sapere dall'ATS che è solo la prima di altre iniziative che si svolgeranno sempre nel reparto di ostetricia pensate per creare con le future mamme un rapporto costante basato sulla conoscenza reciproca e su un'informazione più approfondita delle attività offerte dalla struttura. Tragedia sfiorata al parco Tarragona. Un ramo si è staccato da un albero e ha mancato per pochi centimetri una mamma col proprio figlio seduti sulla panchina sottostante. A riportarlo è Giorgia Vaccaro, coordinatrice cittadina della Lega. Sono anni che orliamo lo stato in cui sono ridotti quei giardini. mattonelle che mancano in diversi punti, giochi rattoppati con lo scotch, pavimentazione antischock non uniforme, camminamenti ridotti a colabrodo, buchi e avvalamenti tutto intorno all'area giochi. E ad oggi ancora manca l'altalena per bambini in sedia a rotelle, segnala Lavaccaro. Caro sindaco, prosegue l'esponente leghista, far controllare lo stato degli altri alberi solo dopo la tragedia ha spiorato un ulteriore oltraggio ai frequentatori del parco, bambini e anziani. Ancora una volta lei dimostra di non saper amministrare perché non si gioca con la sicurezza, soprattutto con quella dei bambini. La invitiamo a fare un sopralluogo con noi della Lega Alguero ai Giardini, sperando che almeno per i baby cittadini le possa trovare del tempo, magari sottraendolo ai suoi numerosi impegni fuori città che la distraggono da ciò di cui Alguero ha bisogno oggi più che mai saper essere amministrata. Conclude Giorgia Vaccaro. Ci lasciamo per la prima pausa pubblicitaria. A tra poco. Ritorniamo in studio lunedì scorso in Cattedrale in occasione della Messa per la Morte di Don Nughe. I fedeli algherese hanno assistito ad un atto di grande sensibilità da parte del nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Mauro Maria Morfino, ufficiando la Messa in Catalano insieme all'Arcivescovo Emerito di Barcellona, il Cardinale Luis Martinez Sistac. Il nostro Vescovo ha dimostrato un gran sentimento di rispetto e sensibilità non solo nei confronti del Saterdotti algherese Don Antoni Nughez, ma anche verso tutta la comunità algherese. Lo sottolinea in una notte il presidente dell'Omnium Cultural dell'Alghese Stefano Campus. Questo fatto significa molto per tutti noi algherese, specialmente per i fedeli che desiderano che venga celebrata la Messa in Algherese, scrive ancora Campus. Omnium Cultural dell'Alghese prime il suo ringraziamento al nostro Vescovo per la grande sensibilità dimostrata verso la comunità algherese e l'Arcivescovo Emerito Cardinale Luis Martinez Sistac per il grande atto d'amore dimostrato nei confronti di Don Nughez e della nostra città. Ha preso il via questa settimana e proseguirà anche per tutta la giornata di domani la sedicesima edizione di Monumenti Aperti, organizzata da Comune Fondazione Alghero e coordinata in Sardegna dall'associazione Imago Mundi Ollus. Tra i percorsi e le visite di spicco, quelli dedicati a Giuseppe Manno a 150 anni dalla sua morte e la mostra Rigiro che celebra la centesima edizione della Corsa Rosa partita lo scorso anno da Alghero. 39 siti aperti, oltre 1.500 volontari che hanno aderito alla manifestazione. Istituti scolastici, Parco di Portoconte, Università di Sassari, Fondazione Siotto, Area Marina Proteta, Capocaccia e Isola Piana, Manchi Aeronautica Militare, Casa Circondariale di Alghero, diverse associazioni culturali e di volontariato. Monumenti Aperti 2018, sedicesima edizione, si svolgerà tra oggi e domani in città. Un grande evento culturale che unisce Alghero a prendosi ai visitatori che ogni anno partecipano sempre più numerosi alle visite guidate. Tanti percorsi a tema, tra gli altri quelli dedicati a Giuseppe Manno è al Giro d'Italia, perché a un anno dalla grande partenza della centesima edizione della Corsa Rosa proprio da Alghero, la città mostra le più belle foto scattate dai suoi cittadini. Installazioni sulle strade, esposizioni, le hortensie nel cielo, gli orizzonti rosa colorati sul mare. La mostra è realizzata dalla Fondazione Alghero in uno dei luoghi simbolo della città per popolarità e frequentazione, ovvero il mercato civico di Via Sassari. Trecento gli scatti che stanno impreziosendo i banchi del pesce e quelli colorati della frutta in un percorso di immagini unico che evoca i momenti più belli di un'esperienza che rimarrà nella storia della città. Ognuno ha fatto qualcosa di originale, ha abbellito la città, l'ha impreziosita, colorata, un amore straordinario e contagioso che tutti hanno notato, apprezzato, valorizzato e raccontato. È la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini che consegnano una città più ricca, capace di stupire il mondo, uno spirito che rimane e si fortifica, una grande palestra di coesione sociale che si è cementata anche dopo il giro. Per continuare a rendere insieme all'amministrazione armoniosa e decorosa, pulita e ben curata la nostra città di Alghero, recita il pannello esplicativo Rigiro 100 più 1, questo il nome che è stato dato all'esposizione. Ma per conoscere tutti i siti visitabili in queste due giorni con orari itinerari si può visitare il sito infoalghero.it. Oggi e domani si svolgerà TxT, atto zero, la prima iniziativa di TxT, ovvero Teatro per Tutti, il progetto di gestione aperta e partecipata del Teatro Civico, sostenuta grazie ai fondi del Bando Culturale Lab della Regione Autonoma della Sardegna. Anche la Società Umanitaria di Alghero, che fa parte del team del progetto, capitanato dal Teatro d'Inverno, partecipa all'iniziativa con una serie di appuntamenti. Si inizia alle 21.30 di oggi con la proiezione del film Uno sguardo alla terra di Peter Marcias, prodotto dalla Cap Town SRL con il supporto della Società Umanitaria Cineteca Sarda, il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e Sardegna Solidale e distribuito dall'Istituto Luce. Alle ore 23.30 seguirà a momento ludico a cura di Ignazio Chessa, a mezzanotte e mezza proiezione del film Le streghe sono tornate dal regista basco Alex della Iglesia per gli amanti della notte e dei film notturni. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Civico di Alghero e sono ingresso libero. Domani invece alle 21.00 cineconcerto, sestante rotta a nord-ovest, visioni di Segundo di Marco Valentino, con Marco Valentino, Marcello Peghin, Salvatore Maltane e Paolo Zuddas, una produzione Teatro d'Inverno e Società Umanitaria di Alghero. L'ingresso in questo caso prevede un ticket di 10 euro che sarà acquistabile presso la cassa del Teatro Civico di Alghero prima dello spettacolo. Il programma completo di TxT 8.0 è disponibile nella pagina Facebook di TxT Teatro per tutti. La sesta declinazione è la nuova raccolta di poesie di Raffaele Saribozzolo pubblicata dalla Bertoni Editore che verrà presentata in anteprima domani alle ore 11.20 al Salone del Libro di Torino. Ospite dello stand della Regione Umbria, Saripresenterà il suo libro accompagnato dal giornalista e scrittore Bruno Geraci che ne ha firmato la prefazione. La sesta declinazione, nella cui copertina compare un'opera pittorica dell'artista algherese Andrea Cocco e la quinta raccolta di poesie di Raffaele Saribozzolo e per la prima volta avrà una distribuzione su tutto il territorio nazionale. Il libro, dopo la sua anteprima al Salone del Libro di Torino 2018, sarà presto presentato anche ad Alghero e sarà disponibile nelle librerie. E anche lo spettacolo di storytelling, storie di alberi, alberi di storie, creato e raccontato da Enedina Sanna, sarà rappresentato a Torino in occasione del 31esimo Salone del Libro, nello stand della Regione Sardegna, domani alle 15 all'interno del programma curato dall'Associazione Editori Sardi. Il racconto sarà accompagnato dalle musiche della violinista Maria Vicentini, artista con una lunga esperienza sia nella musica classica che nel jazz. Lo spettacolo è coprodotto da Archivi del Sud Edizioni e dall'Associazione Iana Project. Facciamo l'ultimo break pubblicitario e poi parliamo di sport. Come di consueto il sabato terza parte del nostro telegiornale, scusate, interamente dedicata allo sport. Allora vediamo il programma nel quale sicuramente spicca lo scontro decisivo tra Alghero e Biella nella Serie B di Rugby per la promozione in Serie A. Di questo però parleremo dopo. Nel prossimo servizio vediamo invece quali sono i match che riguardano i campionati di calcio di prima e seconda categoria. Ultimi 180 minuti nei campionati regionali. Nel gironelle di seconda categoria l'unico motivo di interesse è ormai la corsa per il secondo posto, visto che il Campaneda ha già vinto il campionato. La situazione alle spalle di Sassarisi è questa, Treseliges 58, Audax e Florinas 57. Domani in programma proprio il match tra Treseliges e Florinas. Una settimana dopo invece la squadra di Bardini se la vedrà con l'Audax. Due scontri diretti decisivi per garantirsi una posizione utile per i ripescaggi in prima. Con una vittoria domani il Treseliges potrebbe stromettere dei giochi il Florinas che la scorsa settimana ha perso un po' sorpresa contro il Pagi, mancando il sorpasso. Buon per l'Audax, tornate in corsa per il secondo posto con la vittoria sulla Villier. Domani i ragazzi di Gepposerra giocheranno sul campo del Mores a 31 punti come il 1945 Alghero. Giallo Rossi che domenica scorsa l'ha interrotto. La serie è negativa con il pareggio con la Sprint Itir e che domani ospiteranno al Mariotti il Campanedda. Il Maristella invece farà visita alla Villier che con un solo punto in più del fanalino di Coda Minerva deve ancora conquistare la salvezza. Passando alla prima categoria nel Gironi D, ultimo match casalingo stagionale per l'Olmedo che al pintore Caddeo ospita il Pozzo Maggiore, ormai sicuro del secondo posto. Biancoverdi che invece proveranno in questi ultimi due partiti a chiudere nella migliore posizione possibile. E manca davvero poco ormai alla sfida tra Amatori Regbi Alghero e Biella. Sfida per la promozione in Serie A in programma domani alle 15.30 a Maria Pia. Ma sentiamo il servizio. Amatori Regbi Alghero contro Biella. La sfida delle sfide in questo girone per le due squadre che si contendono la promozione in Serie A proprio nell'ultima giornata della stagione. Un campionato lungo e difficile con squadre forti che cammin facendo si sono un po' perse e altre invece che dopo la pausa di dicembre si sono rinforzate e rinverdite tanto da riuscire a scalare diverse posizioni in classifica. Ma va dato atto che le formazioni di vetta sono state costanti per tutta la stagione e hanno mantenuto a suon di vittorie la loro posizione di pregio in graduatoria. Posizione che alla fine può regalare dopo 80 minuti come nel caso dell'Alguero e del Biella il sogno di questi anni, l'obiettivo di quest'annata ovvero la Serie A. Anversa e i suoi hanno trascorso una lunga settimana di preparazione e concentrazione per farsi trovare al meglio in questo impegnativo match. Anche la città è in fermento. Non solo tifosi sportivi ma semplici cittadini appassionati di sport andranno al campo a sostenere la squadra algherese che sta rappresentando al meglio la città catalana nella penisola. E' atteso il pubblico delle grandi occasioni. La società è inoltre pensato ad una bella iniziativa ovvero di donare ai primi 400 paganti una maglia stampata per l'occasione per sostenere ancora di più questa compagine che tanto bene ha fatto sinora e che domani si gioca un'intera stagione. Appuntamento dunque a Maria Pia alle 15.30. Vediamo anche gli appuntamenti di basket in Serie A 2 femminile. La Mercedes gioca questo pomeriggio alle 16 al Pallacorbi a gara 2 del play-out contro Carugate. Nel primo match giocato in Lombardia una settimana fa la squadra allenata da Manuela Monticelli ha perso nettamente a 78-49. Quest'oggi proverà a portare la Serie A 3 che verrebbe disputata sul parche di Carugate. Coral 2016 che invece giocherà domani a Cagliari contro il Generusci. Siamo passati dunque al campionato di Serie D maschile dove in programma la penultima giornata della Pool B. I ragazzi di Coach Granchi sono ormai sicuri da tempo del primo posto. Dal basket al baseball perché dopo l'ottima prova contro la Fiorentina battuta all'ultimo inning con il punteggio di 7-6. La Catalana allenata da Brito e Contini partirà domani per Roma per sfidare nel doppio incontro la Lazio-BSL 1949 nello stadio Capitolino dell'Acqua Citosa. Tornando al confronto con la Fiorentina, algheresi che lo scorso fine settimana hanno giocato solo gara 1 mentre gara 2 è stata annullata per impraticabilità del campo di Via Emilia dopo il violento acquazione del primo pomeriggio. Rispetto alle altre partite gli algheresi hanno iniziato la sfida contro i toscani in salita subendo 6 punti nei primi 6 inning contro i due dei bianco-blu. Gli algheresi che hanno battuto di più rispetto ai toscani sono rientrati in partita all'ottavo e al nono inning quando hanno confezionato ben 5 punti complici le valide di Adelmi Meloni e del giovane Riccio e Vittore Schock che con un singolo ha permesso la realizzazione degli ultimi due punti utili per la vittoria. Bene in attacco Contini e Ziede ed importante contributo anche da parte di Gargiù l'autore del punto decisivo. Domani la Lazio si presenterà assetata di punti visto il penultimo posto in classifica dopo il pareggio contro il Livorno che ha mostrato luce e ombre della squadra allenata da Pietro Rossi. Play ball di gara 1 fissato per le 10.30 e gara 2 prevista dopo la pausa pranzo 45 minuti dopo la conclusione della prima sfida. E dopo il successo della passata edizione in collaborazione con il Comune di Villanova Monteleone e l'Unione dei Comuni del Villanova domani 13 maggio la SD SOS IDANEOS organizzerà la seconda edizione della Corri nelle Villanova col patrocinio dell'Unione dei Comuni del Villanova e dello stesso Comune di Villanova Monteleone. Scopo della gara promuovere lo sport in genere e il territorio. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi concorrenti provenienti da tutta l'isola. Quest'anno grazie alla fiducia riposta dal Comune Villanova Monteleone in particolare dall'assessore allo sport Giovanni Piras. Si legge nella nota dell'associazione la SD SOS IDANEOSOS il 19 agosto partirà e organizzerà anche la storica e celebre manifestazione podistica dal mare alla montagna con l'intento di renderla sempre più conosciuta ed affascinante. E questa manifestazione chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre le previsioni del tempo per la giornata di domani. Vi auguro un buon fine settimana. Grazie per averci seguito. Arrivederci.